ma noi non ci lasciamo intimidire da questi brutti chefi cosa succede polvere di stelle e si sta tramutando in qualcosa questa mattina si direbbe un totem il totem che abbiamo visto prima di entrare ma è ridicolo questo è l'unico dettaglio lattinello mamma mia poverino il magnete subito lattinello vieni qua è cascato e adesso gli saltiamo sulla testa con lo schianto facendo lo schianto a terra bisogna così ragazzi schiacciare con il salto e poi lo schianto il primo colpo al lattinello lo abbiamo dato non mi sembra affatto difficile per ora fin quando però non vedo un altro magnete le cose sono ferme così e questi cosi li posso solo evitare credo cosa tira fuori a un certo punto verrà fuori qualcosa di diverso no che così o i topi ecco ci sono i topini che cercano di non farci prendere il magnete guarda un po ci sono degli aeroplanini che cercano di punzecchiarci ti ho preso l'antinello e oppe brigniao brigniao questo è il verso più o meno che fa yoshi eh credo di essere molto bravo ad evitarlo non so se mi spiego brigniao non so se avete sentito brigniao lui continua a provare a prendermi ma è talmente tanto lento che posso farmi beatamente i fatti miei in giro per il quadro strafega sta fregandomi di quello che fa lui e questo coso qui perché è dorato a forse perché salta e ognuno fa un movimento diverso ognuno di questi così così e dove c'è dove credete di andare topastri con il mio magnete eccoci qua lattinello chietto preso anche se ho tirato un po troppo in basso brigniao semplicissimo un altro brigniao e l'abbiamo sconfitto ben fatto tutto qua molto semplice ragazzi molto molto semplice parole non so da dove le scavano veramente da un antico vocabolario si sta risvegliando qualcosa sembra proprio quel pallone allora non ve l'ho fatto notare con lattinello ma ve lo faccio notare adesso questi filmati in cui vengono fuori i boss sono meravigliosi secondo me perché sono realizzati come se fossero in stop motion non so se ce l'hai fatto caso per me è una figata stilistica pazzesca e si è gonfiato un pallone vediamo come si chiama questo grassone oh no gli si è bucato il pantalone una toppa sul sedere perché altrimenti che imbarazzo certamente ok è un pallonciotto goffri gonfiato ok goffri mi serviva quel pallone devo passaggi sotto probabilmente e poi lui inciampa sta fischiando ok c'è un pinguinotto gli possiamo tirare ok gli possiamo tirare a più non posso per farlo cadere in acqua e dopo di che possiamo probabilmente saltarli sul sedere sicuramente si oh oh adesso c'è da muoversi in acqua probabilmente wow questi mi tirano i palloni wow non è proprio semplice semplice schivarli ehi goffri gonfiotto cavolo questo boss qui è più difficile di ehi goffri gonfiotto latinello boom tieni è uno e vai il secondo e uno e due vai in acqua non è proprio semplice cappottarlo e brignao sono sicuro che anche voi dopo che vi ho insegnato brignao direte sempre brignao quando farete lo schianto a terra con gioshi Cosa fai? Sempre la solita follia di fare questi salti assurdi Tutto in bilico Saltiamo sui pinguini Dai chiama la tua squadra di pinguinotti O pinguotti In realtà si Mi ho esplosi mille Bisogna stare attenti Ehi mi serve un altro pinguotto No cavolo ho perso un'occasione Quindi lui lo rifà E ci tenta di spingere in acqua Come al solito Io non ho zero uova Zero uova Boom uno E boom due Vai in acqua e brignao Ultimo brignao E l'abbiamo sconfitto Credo proprio di sì Poverino è in imbarazzo Gli abbiamo fatto calare le braghe Ben fatto Sconfitto anche il boss ragazzi Stiamo a vedere Yeee Si sono gasati E la trasformano l'oro Non c'era niente allora di pericoloso al momento Potevo anche spaccarla per conto mio Chissà come però Magari dandogli una testata Perché io non avevo nulla da tirargli Si è trasformata in uno stelo Si dice così se non sbaglio Lo stelo del fiore E qualche pianta Anche qualche foglia volevo dire Ed è una perfetta pignatta piragna Ok Nuovo boss Che cosa ci propone Che cosa dobbiamo fare Sputerà sicuramente dei semi Questo qui non posso farci niente Gliande A più non posso Possiamo rifornirci E spararla No Non così Ah ok Devo Tipo Ah ecco Così Fargli cadere Quello lì Un tuto Sulla testa Ok Fare una scorta magari di uova Non sarebbe stata una cattiva idea Lui si è ababbiato Bastava saltare ragazzi Non è che era tanto difficile Evitare quest'onda di piantine piragna Basta saltare Chissà se dopo fa qualcosa di più difficile Già sembra che stia facendo qualcosa di più difficile in realtà E mi serve Oh no Vabbè Ok Questi saltano sti cosi Rimbalzano Blum 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 Questo me lo bagno E blum E anche questo me lo bagno Basta rimanere fermi nello stesso punto Ok Bombe dappertutto Lei si mette lì Bum E ti cade in testa Dritta precisa in testa Perfetto ragazzi Stiamo andando fortissimo Vediamo che cosa si inventa adesso Wow Piante che vanno in tutte le direzioni Sembra un pochettino più difficile Sembra quasi Uno di quei giochi Tipo Space Invaders Oppure Tipo Insomma quelli lì Con la navicella Dove devi sparare Gli alieni che ti vengono Addosso Forse Space Invaders È un po' troppo vecchio Non credo che nessuno di voi Lì lo ricordi Ok Proprio lì al centro No Si è scudato E mi ha colpito Boom Tiè Beccati l'ultimo coso E Crepa Crepa Piantapiragna Anzi Pignatapiragna Ok Avrei dovuto dire il contrario E stavolta invece Me la sono cercata Era meglio dirgli di no Ma tanto il risultato Sarebbe stato lo stesso Avrebbero comunque Fatto un guaio Stanno facendo Un treno coccodrillo Un croccotreno Ha delle pile Lì Nella mascella Un motore Al suo interno Con un cerotto Per farci capire Che il suo punto debole Probabilmente Sarà lì dentro Mi sa di sì Mi sa proprio di sì Ok Si sta assemblando Come al solito In modalità slow motion Molto figo Come ti chiami? Locomodrillo Locomodrillo Ok Un treno Coccodrillo Logico no? Locomotiva Coccodrillo Dove va? Va via Ok Ciao Ah no Col cavolo Vado anche io col treno Non promette niente bene Ok Arriva uno shy guy Tu sei mio Wow Occhio Wow Questi cosi ruzzolano Ok Locomodrillo Boom Beccato Ok Lui apre le fauci E viene fuori Il suo punto debole In realtà Io lo stavo quasi Per colpire Sul faccione Senza Volerlo Wow Wow Ma cosa Succede? Ma no Ma così Ah ok Devo proprio cambiare treno Altri vagoni In realtà io volevo colpirlo sulla faccia Così normalmente Invece Per puro caso Lui ha aperto le fauci Nel momento giusto Per farsi colpire da me Ok Di uova ne abbiamo A più non posso Che succede? Devo colpirli Quei cosi? A quanto pare sì Arriva lo comodrillo No Apri Boom Apri bene bambino Apri la boccuccia Fatti colpire Una marea di shy guy Per rifarci Delle uova Che abbiamo lanciato A casaccio Ok Sfascia i vagoni Se vuoi Se proprio insisti Se proprio insistisci E noi saltiamo Sul prossimo Numero 4 vagoni Sui prossimi 4 vagoni Ok Arrivano Ruzzolando Io di uova ne ho A più non posso Però magari un'altra Non basta Matite Dove arrivano? Dappertutto Come dovrei fare Ad evitarle? Wow Così A quanto pare Matite killer Lo comodrillo Apri Boom Preso Dovevo sparare Un pochettino più in alto Ma stranamente Sono stato un portento Con le uova Cosa che solitamente Non faccio mai Però sto migliorando Ragazzi Il gioco è praticamente finito Ma io alla fine del gioco Imparo a giocare Mi sembra logico Quando non serve più a niente Lo sapevo Che era un desiderio stupido Lo avevo detto Il sole dei desideri È pronto A accontentare Quel Sempliciotto Di Baby Bowser Più sempliciotto Di Yoshi Se fosse possibile Raccogliamo Tutta la spazzatura Che c'è in giro Per costruire L'ultimo boss Nastro adesivo Pattume Di vario genere Cartone Cartoncino Ma che fa Il sole dei desideri È impazzito Si incastona Anche lui All'interno del robot Un po' Coccodrillo Un po' Re A quanto pare Re di non si sa cosa E un po' Baby Bowser Ecco Ha la sua faccia Ha anche le sopracciglia È tutto completo Ecco il muso Da dove lui può controllare Tutto con un fiammifero Altamente Infiammabile Non sembra Niente di sicuro Mettere un fiammifero All'interno di una struttura Fatta tutta di cartone Non mi sembra Un'ottima idea Gran Re Bowser Quindi dovrebbe impersonare Bowser Piuttosto che Baby Bowser Ok Cosa c'è da fare Magari devo Wow È una macchinina E mi voleva Tendenzialmente Passare sopra Mi devo un pochettino Ripassare i tasti Eccolo Guardatelo Gli Shy Guy Arrivano A bordo di missili Dove posso colpire La macchina Nel frattempo Nel frattempo Mentre ne colpivo una L'altra mi è passata sopra Ok Ok Possiamo procedere A colpire l'altra Boom Le ho mandate in cortocircuito Posso continuare A colpirle Una l'ho distrutta Vediamo l'altra Boom Distrutte tutte le macchinine E adesso posso colpire Baby Bowser Con un uovo Brignao Yes Brignao è sempre La scelta La cosa più giusta da fare Adesso vuole Ecco Sicuramente Passarmi sopra In qualche altro modo Mi vuole Colpire con delle Tipo Navicelle Si sono fermate Io non ho uova Ok Ha messo Degli altri Mostrini Ha delle nuove braccia Con dei Diversi mostri Via Yoshi Ok Io quello lì Posso già iniziare a colpirlo Boom Ci vogliono due colpi però Si possono mangiare Sti cosi? No Devo Mangiare quelli con Gli Shy Guy Uno lo distruggiamo È già un problema in meno Ci sono delle Degli ingranaggi Adesso No L'ho mancato Maledizione Devo aspettare allora Il prossimo Lancio di missilotti Con gli Shy Guy Poverimi Quegli Shy Guy Li ha legati a dei missili Ma si può trattare così I suoi sottoposti? Io penso che sia Proprio malvagio E merita la nostra punizione Uno mi è scappato Ok Uno E due Ok Ci siamo liberati Già di un problema Però Non ho le uova Per colpire Baby Bowser Adesso Come si fa? Lui mi spara Ecco Mi dà a disposizione Delle uova Di nuovo Arrivano gli Shy Guy Ah Uno Mi è sfuggito Vieni qua Baby Bowser Ti becchi un Brignao Come non l'hai mai provato prima Il più forte Brignao di tutti i tempi Oh no Ho preso una mazzata Mi sono distratto Per prendere cuori E monetine Che non sono neanche Poi tanto Wow Adesso arriva anche In retromarcia Non me l'aspettavo proprio Wow Cambia direzione Continuamente Bazzeccole Bazzeccole Oh Un altro tipo di armi Che cosa succederà? Matite Trapano Ah ok Non posso toccarle In nessun modo Una lo colpiamo Ok Uno E mi serve anche l'altro Oh Dammi cavolo Di uova Via Uno Un braccio Io l'ho rotto Ok Continuano ad arrivare Ingranaggi salterini Basta mettersi nel punto giusto Dove rimbalzano Delle sole piccole matite Senza quelle dall'altro lato Non mi spaventano Anche perché quella lì Difficile da evitare Era in realtà Opla Preso Quindi ho tutte e due Uno E due Ok Spaccate Le matite Dicevo Difficili da evitare Sono quelle lì Che arrivavano da sotto Non quelle lì da sopra Perché quelle lì da sopra Basta accovacciarsi Dammi Gli shy guy Necessari E quello lì Non fa niente Lo lascio andare Scendi giù E Boom Brignao Beccati sta lezione Un po' di cuoricini E monetine per me Povero baby buzzer Mi fa anche un po' di tenerezza Perché in fondo è un bimbo capriccioso Niente di più Il suo sogno è infranto Poverino Il suo robottone Esploso Vediamo che succederà adesso Che avete fatto alla giovane altezza Niente paura Ci sono qua io Vattene via camec No Oh mamma mia L'ha fatto diventare enorme E adesso Oh sole Con c'è di potere ancora più grande Alla giovane altezza Non finisce qui ragazzi Lo scontro È appena iniziato A quanto pare È diventato gigantesco Ups Temo di aver esagerato E beh In effetti Wow Ancora più grosso È diventato tipo Godzilla E adesso come si fa? Ci vorrà tipo Yoshi picchiaduro Oh mamma mia E che cosa? Una slot machine Lì sul petto Come si farà? Corona E il sole di desideri Mega baby bowser Se l'è messo sotto il cappello Ok Vediamo un po' come si fa Uova O cos'altro Mi spara In tre dimensioni Wow E delle enormi Palle di fuoco Che mi dà Stelle che cadono Stelle che cadono Via 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 Eccola quella Quella con lo shy guy Preso Dove si può colpire? Uh Mi ha mancato per un soffio Posso colpire il suo martello A quanto pare Oh oh Non ho più Nessuna difesa Ok Io ho colpito il martello E adesso? Ah oh Io ho preso il martello Ci sono tipo dei pezzi Che devo mettere insieme Wow Per costruire qualcosa Non so bene cosa In realtà ragazzi Lo scopriremo Lo scopriremo Devo mettere Oh Questo mi serve Uno E due Ok Un altro pezzo di martello Sì Ma posso tipo colpirlo adesso A martellate? No Ok C'è tipo Qualcosa Dove devo sparare I pezzi di martello Tipo lì Ecco Posso mettere insieme Due martelli Non uno Due martelli Ok Facciamo un po' La scorta di Di uova E una E due Posso Ecco Ok Ho montato I martelli Come si farà A colpirlo? Quando va di lato O Boom Ecco Così posso prenderlo Ammazzate A quanto pare Boom E quante volte Devo farla Questa cosa No Ok L'ho mancato Anche quando si mette Lì di lato Mi sa che posso colpirlo Quindi devo semplicemente Mazzolarlo Pare che Io debba farlo Tipo Milioni di volte Ho sbaglio Si sta tipo scaricando La sua Macchinetta Che ha in petto Posso Sì Fare Veramente Un sacco Di martellate Boom Una super Martellata Beccato poi Alla fine E si è distrutto E si è distrutto Il mio martello Uno dei martelli L'altro ce l'ho ancora Cadono meteoriti Nel frattempo Anche uno gigantesco Apocalittico Proprio Mamma mia Non è Esattamente semplice Evitare tutta questa roba Che cade giù dal soffitto Boom Esploso Ok Meglio evitare Per il momento I suoi spari E poi colpirlo Quando va In postazione Ok Brignao 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 Di fuoco Boom Ok Io sono messo male Ragazzi Sto Diciamo Facendo passare E ho osservato Il fatto che io Non abbia protezione Il mio cartoncino Il mio costume Si è distrutto In mille pezzi A causa di questo Brigconcello Wow Sono incastrato Tra due fuochi Ok Ho resistito Adesso Lui dovrebbe Tipo Wow Cavolo E come Cioè Come dovrei fare E adesso Lui mi dovrebbe Ridare il martello In qualche modo Oppure Non so Come si fa Come si fa Senza martello Uo Occhio Occhio Ecco Delle nuove armi No Non è vero Come si fa Uno Preso E Due Presi Me li sono rubati Ok Li montiamo Sempre lì Però adesso Dobbiamo stare attenti Ad evitare Tutti questi Fuocherelli Pazzi Che ci spara Montiamo tutti e due I martelli Cavolo Me l'ha fregato E adesso Io gli sparo l'altro Così impara Ecco Quindi Lui Ne blocca E' in grado Anche di bloccarlo Brignao di fuoco Boom Esploso Ridami il sole Dei desideri Godzilla Pazzo Va bene Kamek So di non essere stato Proprio Elegante Nella sconfitta Contro Baby Bowser Adesso Tocca a te Sta mettendo In sesto Tutti i boss Che abbiamo Già sconfitto Questo qui Sembra Un lattinello Versione Kamek Un Kamek Come si chiamerà Kamek No è proprio Kamek Però si è rifugiato Dentro l'attinello Kamek L'ho beccato Ma il pavimento Ragazzi Non bisogna restare Troppo tempo fermi Quindi le uova Bisognerà tirarle Facendo Molto rapidamente Altrimenti Si casca di sotto Uno Preso E l'altro distrutto Ok Quindi dobbiamo Sempre stare in movimento Sempre stare in movimento Altrimenti ci cade Il terreno sotto i piedi Ora No Si l'ho beccato L'ho beccato L'ho beccato E brignao Super potente Ritorna subito Ok Qui la sequenza Delle matite che cadono È una cosa Impossible Ecco Adesso Cadono le matite Dai che ti ho preso Dai che l'ho preso Vai Stavolta Non mi hai fregato Kamek Si viene il difficile Perché Dobbiamo capire Dove Dobbiamo sparare Perché Sinceramente Non ho capito Dove devo sparare Arrivano missili Da tutte le parti Arrivano missili Anche dall'alto Qui Questa parte È impossibile Ecco Qui ho preso Lo shy guy Volevo prenderne Anche un altro Perché Mi serve Per capire Dove sparare Non è lì Che devo sparare No Non è alla macchina Che devo sparare Eccolo Devo sparare Direttamente A Kamek Eccolo qui È venuto fuori Terzo Brignao Vai Pronti Dentro Yoshi Picchiaduro Le macchinine Si possono Beccare Facilmente Carichiamo Abbiamo pochissimi HP Da Yoshi Picchiaduro Questo è il problem Ragazzi Boom No È già fallito Ah Caspita Bisogna prendere Tutte le macchinine No Di nuovo fallito No Non ce la faccio Così Devo essere infallibile Da adesso in avanti No 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 Così Non si fa Ragazzi Boom Ok Beccato Adesso Passiamo agli aerobionini Però sono già A corto di cuori Si dovrà fare Sicuramente Una Terza parte Ti odio Veramente Ti odio Veramente In maniera Incommensurabile Boom 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 Eh si Boom 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 Il cavolo Proprio Vabbè Ok Perlomeno Non ho preso Più di una Di una mazzata Ok Mi concentro No Non ci siamo Proprio Dovrei avere Ancora altre Possibilità Non riesco Sinceramente A capire Perché ci sono Sempre riuscito Adesso no Ok Ci siamo Oh Finalmente Ce l'ho fatta Ragazzi Mi sta per venire Una crisi Mi sta per venire Una crisi Oh Non ci posso Credere Eee Scendi Boom Finalmente Crepa Vattene lì Sulla luna L'abbiamo Spedita Sulla luna We have Un corno We have Un corno We have Un corno Yoshi Maledizione Ma che cavolo Che cavolo è Che cavolo è Questo boss Ragazzi Ok Di Un corno Say Un corno